Dal sito web di Bifier è possibile per ogni settore scaricare il manuale relativo. Per la protezione al fuoco edilizia è sufficiente andare sulla relativa pagina e cliccare sul link. Scegliamo la soluzione che più ci interessa. Ad esempio, se vogliamo installare una parete EI 120 a grandi altezze, possiamo scegliere la P27. La cosa interessante è che il manuale in PDF è interattivo e cliccando sul nome del prodotto e facendo login è possibile scaricare il manuale della soluzione. Il manuale della soluzione contiene nella pagina principale una piccola descrizione di quanto bisogna installare. Scorrendo si va sulla scheda del sistema, disegni esplicativi, caratteristiche tecniche della soluzione, voce di capitolato, descrizione per il modulo CR3 dei vigili del fuoco, corretta posa in opera, si possono scaricare i DVG per i dettagli e un pratico schema riguardante i costi al metro quadro dell'installazione, anch'esso interattivo. È sufficiente impostare l'altezza della parete, ad esempio, in questo caso 6 metri, inserire i prezzi unitari per ottenere un risultato finale. Inoltre, nel manuale della soluzione troviamo il manuale di corretta posa, che descrive passo passo come installare la parete, il dettaglio di giunti di dilatazione, le istruzioni per installare il prodotto base e ovviamente schede tecniche di tutti i prodotti costituenti. Infine, nel manuale della soluzione troviamo ovviamente anche tutti i certificati e le dichiarazioni di prestazione relative ai prodotti installati.